Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come scaricare dei vecchi driver per la propria scheda grafica Nvidia quindi in questo caso per esempio faccio questo tutorial perché c'è chi si trovava benissimo con i vecchi driver della scheda video quando apriva i giochi e non aveva nessun problema ovviamente per quelli che hanno problemi ora ad avviare un gioco con i nuovi driver che hanno scaricato e che hanno aggiornato quindi si potrebbe passare ai vecchi driver quindi provare a vedere se il gioco si apre con i vecchi driver di Nvidia quindi in descrizione ti ho lasciato così questa pagina dove tu puoi trovare i tuoi vecchi driver della tua scheda grafica quindi in questo caso io vado a mettere così la mia GeForce 16 serie della 1660 Super quindi cerca qua sopra la tua serie quindi il tuo prodotto, il tuo sistema operativo e la tua lingua una volta fatto vai a cercare quindi vai cerca ti porta così su un'altra pagina e qua sopra tu puoi trovare tutti i vecchi driver sia di Gamerate Drivers e Studio Drivers ed ecco lì qua, vedi più versioni, ci sono le versioni più vecchie che sono del febbraio 2000 a me mi esce solamente questa qua del 13 di febbraio 2024 basta solo questo quindi vado su view quindi visualizzo ed eccolo qua una versione vecchia febbraio 2013-2024 fai download e scarichi così e installi la versione vecchia di un driver per la tua scheda grafica Nvidia quindi se a qualcuno serviva questo tutorial su come scaricare dei vecchi driver sulla scheda grafica Nvidia per risolvere il suo problema su come si trovava a giocare o ad aprire le applicazioni quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao